benvenuti a tutti siamo da vinyl brokers e oggi abbiamo un appuntamento particolarissimo incontriamo raffaella zago ciao raffaella ciao incontriamo lei che con lei dialogheremo un po sul suo percorso discografico visto che comunque adesso sono già usciti i suoi due singoli e poi nei prossimi mesi nelle prossime settimane uscirà anche tutto un progetto più articolato allora partiamo dall'inizio e partiamo da kendrick lamar per questa narrazione di raffaella il suo debutto parte proprio da lì e dalla visione di un brano money tree che è appunto un brano storico di kendrick allora raccontami da dove nasce il tuo sogno qual è la tua visione il tuo processo creativo e soprattutto come come hai fatto a far diventare un brano essenzialmente rap come money tree in un dandogli un vestito nuovo un vestito in un sole super pettinato super morbido super delicato vai raffaella parlaci raccontati di te allora beh innanzitutto parto dicendo che kendrick è uno dei miei artisti top favoriti non solo per quello che scrive ma soprattutto per la musica perché io mi sono sempre fatta molto influenzare da la musica che ascolto e più che le parole in realtà e quindi quando ho sentito money trees pensando a quale potesse essere il singolo di partenza per il mio progetto musicale ho detto perché non partire proprio facendo capire raccontando da dove viene la mia musica e quindi ho deciso di prendere money trees e di trasformarla in una mia versione ovvero togliergli quella cosa che non è prettamente mia come il rap e mettergli la cosa mia che era invece la melodia del della canzone che poi è diventata new soul molto più acustica senza nessun suono elettronico e quindi è nata così molto molto in maniera spontanea in studio con il produttore gli ho detto prova a farmi una base acustica di questa canzone e poi io ci ho cantato sopra liberamente ed è venuta fuori money trees la mia versione in realtà avevo già fatto un un altro progetto simile tempo fa con una canzone di eminem e mi era piaciuto tantissimo infatti da lì ho preso l'ispirazione pensando perché non faccio una cosa come ho fatto con quella di eminem e allora ho preso la canzone di kendrick che in realtà è appunto parte della mia musica e volevo farlo notare a tutti e farlo ascoltare a tutti e è così nata è così nato il primo progetto di questa poi lunga serie di altre canzoni inedite che verranno fuori quindi da kendrick parte la tua strada parte il tuo progetto come abbiamo detto il la seconda tappa di questo tuo viaggio appena iniziato ma sicuramente sarà un viaggio lunghissimo è un inedito chiaramente perché comunque tu hai voluto partire con una cover però dentro la tua palette musicale di colori hai anche tutto il repertorio di canzoni scritte da te rispetto al brano di kendrick le liriche le tematiche sono prettamente diverse il brano di kendrick era più una critica complessa sul potere del denaro e sul potere se stesso mentre il tuo il tuo brano inedito open your heart più un un racconto tenero intimo di di un frammento di vita quindi un amore che sembra non essere finito bene e ti ha devastato un po il cuore ma è raccontaci un po come è nata questa canzone qual è stato il vibe che ti ha fatto creare questo questo brano beh una rottura di una relazione d'amore non è mai una cosa semplice cioè se hai amato veramente una persona comunque quando finisce anche se sai che sta finendo sai che è al capolinea comunque ti fa male manca l'abitudine poi dopo tanti anni insieme la persona con cui sono stata siamo cresciuti insieme le tutte le prime esperienze le abbiamo fatti insieme primi viaggi le prime feste abbiamo proprio vissuto la nostra adolescenza siamo cresciuti siamo diventati adulti assieme quindi poi quando nel momento in cui ci siamo lasciati mi è mancata la terra un po sotto i piedi nel senso che per me lui era una costante anche se sapevo dentro di me che l'amore era finito comunque non avevo il coraggio di lasciarlo perché sentivo che la sua mancanza mi avrebbe portato a fare quel passo in più nella vita che forse in quel momento non ero pronta a fare tra l'altro poi è successo prima poco prima della del primo lockdown quindi io mi sono trovata a casa da sola senza poter uscire senza poter vedere gli amici e quindi ho dovuto affrontare il dolore subito è stato enorme e ad affrontare questo dolore mi ha aiutato la musica quindi benvenga che ti ha lasciato da una ferita nasce un qualcosa di grande infatti è stata la prima canzone che io ho scritto seriamente prima ce l'avevo anche già provato però ho notato nel mio percorso negli ultimi anni quando ho iniziato comunque la mia scrittura musicale che riesco a scrivere un pezzone tra virgolette quando sono veramente smossa da delle grandi emozioni sia positive che negative che poi è stato un momento negativo che mi ha portato però a scrivere una canzone che per me è importantissima e che comunque ogni volta che la canto mi fa rivivere tutte le emozioni sia della nostra relazione sia di quando l'abbiamo di quando è finita la relazione insomma ecco e dopo queste mille ferite chi è adesso raffaella beh diciamo che è una bella domanda non lo so ancora cioè diciamo la giriamo chi vorresti essere ok beh vorrei essere la versione migliore di me stessa cercare di fare più musica possibile perché è quella che mi fa vivere io faccio musica proprio perché per me è come respirare l'aria cioè so che magari è una cosa una frase che dicono in tanti però se io restassi senza musica se domani qualcuno mi dicesse tu non puoi più cantare io non saprei che cosa fare e quindi per rispondere alla domanda di chi vorrei essere essere la versione migliore di me stessa facendo musica e cercare di vivere di questa cosa qui perché per me è la cosa più importante in assoluto torniamo al tuo viaggio quindi kendrick l'inedito e adesso è uscito il video del 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 brano un video anche questo che richiama la canzone l'intimità della canzone la sofferenza il prossimo la prossima tappa del tuo viaggio qual è allora la prossima tappa è l'otto marzo che uscirà il il terzo singolo e questo terzo singolo rappresenta molto i miei gusti musicali e non vedo l'ora che esca perché secondo me è una bomba e sono molto fiera delle mie canzoni e e poi invece verso la metà di aprile uscirà l'album di dieci canzoni di cui faranno parte questi tre singoli che sono usciti e appunto verso la metà di aprile uscirà uscirà l'album appunto con le con tutte le canzoni che ho scritto in questi ultimi anni e con cui ho lavorato assieme al mio produttore e niente io sono molto fiera perché è stato un viaggio molto lungo molto intenso molto faticoso però che mi ha dato un sacco di soddisfazioni sia a livello emotivo sia a livello musicale su tutti i sono riuscita a coinvolgere le persone che amo a far parte di questa di questa cosa perché l'album è interamente suonato da musicisti e quindi sono stata anche contenta di poter condividere questo viaggio con loro e niente una cosa che te la chiedo che vediamo se possiamo spoilerarla dentro questo album ci sarà anche spazio al cantato in italiano oppure per il momento ti senti ancora di raccontarti in lingua inglese per il momento sento ancora di di raccontarmi appunto in lingua inglese perché io scrivo in inglese perché ho sempre ascoltato musica inglese sin da quando sono bambina cioè a casa mia musica italiana ce n'è stata veramente poca io da parte del papà ho sempre avuto musica funk blues jazz james brown rita arita franklin tutto quel mondo lì della black music mentre da parte della mamma sempre black ma un po più pop quindi tipo whitney houston mariah carey quindi sia da parte della mamma che del papà la musica è sempre stata internazionale e quindi per me scrivere in inglese innanzitutto è molto più semplice nel senso che le liriche mi vengono molto più più facilmente invece in italiano non dico che non succederà mai perché mai dire mai comunque la musica italiana mi piace ci sono artisti che mi piacciono però ancora sento che quello che ho da dire lo riuscirei ad esprimere meglio in inglese e comunque con quel genere musicale lì ascolta siamo in un negozio di dischi e possiamo giocare ad immergerci nei gusti musicali vaschetta un po vaschetta un po dimmi che cosa ti piace che cosa che cosa vorresti ascoltare a parte che c'è quel wall lì che secondo me già ti dà una dimensione del tuo stile beh diciamo che quando ho avuto l'occasione di venire qui la cosa che mi ha colpito prima di tutto è stata che appunto c'è il mondo musicale che c'è è tutto il mio hip hop r&b funk black disco jazz e quindi quando sono rientrata qui dentro ho detto ma questo è il mio paradiso proprio il paese dei balocchi infatti e infatti qui abbiamo la mia sezione preferita hip hop r&b e possiamo trovare anderson pack malibu bellissimo poi la queen abadu poi abbiamo georgia smith con l'ultimo album for the world flying poi abbiamo gli ai tu scaiote mariah carey olivia dean qua abbiamo il nostro fantastico kendrick lamar poi c'è summer walker culio cypress il mooney long ultimo disco che ho ascoltato allora l'ultimo disco che ho ascoltato è stato i just wanna sing di music soul child bellissimo bellissimo e che dire ascoltatelo perché è bellissimo ascoltami hai parlato appunto che quando sei entrata in questo mondo di vinyl brokers e di grooving è stato un po' un'illuminazione il paese dei balocchi come 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 è nato il rapporto con con la label con il management appunto che è grooving che 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 una sorta di grande famiglia è orientata al sol l'hip hop e alla black culture allora con loro mi sono conosciuta perché un circa un anno e mezzo fa mi contattarono per fare una collaborazione con loro che è stata if you're in need che tra l'altro visto che lo vedo che è qui facciamo vedere il disco che è uscito ormai quasi un anno fa aprile dell'anno scorso e niente mi hanno contattato per fare questa collaborazione con loro quindi come vocali stesso esatto sì ho cantato su questa su questo singolo che loro hanno fatto uscire e da lì ci siamo conosciuti e ci siamo subito cioè siamo subito entrati in sintonia a livello musicale ma anche a livello umano e appunto lì loro mi hanno proposto ma perché non non proviamo a lavorare anche al tuo progetto assieme ti mettiamo a disposizione il produttore con cui tu puoi collaborare e insomma sviluppare quello che è la tua visione musicale insomma ecco io ho detto beh sì che fortuna perché comunque poi io mi sono laureata al cpm l'anno scorso e dopo la laurea in realtà non è che avessi tutte queste grandi proposte queste strade aperte quindi quando loro si sono proposti di dirmi vuoi lavorare al tuo progetto insieme a noi io non ci ho pensato un secondo è stata la disposta subito sì e da lì poi è partito tutto il viaggio e il tutto ascolta per presentare il tuo disco il tuo primo singolo la cover di la mare hai fatto una serata dove hai suonato hai dato una sorta di assaggio in dimensione live di quello che verrà cioè quindi hai suonato con una band con la tua band c'è stata una sorta di showcase che sarà un po' il appunto il preludio poi per tutta una serie di live che fai nei prossimi mesi come è il vibe, la sensazione che hai avuto quella sera e quando suoni live che cosa esce da te? beh quando suono live è la mia natura cioè per me è la mia linfa vitale cioè nel senso io dai live, dalla musica, dal suonare comunque con le persone con cui collaboro con cui ho un rapporto di amicizia con cui abbiamo costruito tantissimo assieme è innanzitutto una grandissima emozione con loro e poi anche c'erano un sacco di persone, c'erano un sacco di amici e condividere quella cosa con loro e vedere che loro erano lì per sostenermi è stata un'emozione grandissima e spero che sarà ogni volta così ma penso proprio di sì, ogni live deve avere le sue emozioni, ogni live deve lasciarmi qualcosa e sarà assolutamente così va bene, va bene allora partiamo con l'ultima domanda un po' marzulliana ma così ci sta una domanda introspettiva l'ultima volta che hai fatto una cosa per la prima volta quando è stato e che cosa è stato? oddio io se me la chiedi non lo so io adesso ci sto pensando le prime volte sono germi di creatività e di mutamento però è difficile averle le prime volte ti direi un'intervista con me dai sì, è vero però questa è già la seconda quindi non può, non conta sì, sì, va bene direi beh, la firma del contratto discografico è stata la prima volta che ho firmato un contratto discografico ed è stata l'ultima cosa che ho fatto per la prima volta l'anno scorso va bene Raffaella, ti ringrazio della chiacchierata grazie a te Marco e adesso attendiamo il tuo viaggio che va avanti il tuo viaggio con Grooving, il tuo viaggio musicale abbiamo detto il prossimo appuntamento 8 marzo 8 marzo 8 marzo, la festa della donna eh sì, tra l'altro ciao a tutti ciao ciao